salve a tutti i ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi siamo con l'ultimo episodio del gym di questa settimana ovvero il quarto di questa settimana siamo ormai alla quarta settimana conclusa lunedì iniziamo la quinta quindi alleniamo le gambe oggi e gli addominali ovviamente cominciamo con le gambe faremo gli squat e invece di fare quattro serie per 20 15 10 e 5 faremo quattro serie per 5 ragazzi direttamente con 66 kg vediamo cosa ne uscirà fuori ovviamente il 20 15 10 5 sparirà tutti gli esercizi e faremo per gli esercizi primari il 4 per 5 ragazzi con il peso massimo che riusciamo a fare ovviamente cominciamo con gli squat faremo questi 4 per 5 con 66 kg ci vediamo all'esercizio ovviamente voi vedrete una sola serie in questo caso e niente ci vediamo all'esercizio prima però ovviamente ci peseremo ciao 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 Senza perdere il peso ovviamente, ci proveremo un po' da perderemo per forza, almeno manterremo massa muscolare. Ok, io ho fatto la prima serie, me ne farò altre tre ovviamente, voi vedrete direttamente il prossimo esercizio sarà il squat bulgaro, squat bulgaro con 8 kg, lo prendiamo di 2, ovvero bilan gianna z più 2 kg, faremo 3 serie per 8, voi ne avrete solo una. Grazie a tutti. Esercizio completato con qualche difficoltà, abbiamo rischiato di ucciderci, però sono i dettagli questi, ragazzi faremo il terzo esercizio, ovviamente legge station 4 serie per 10, 40, 2 kg, aumenteremo pure qui finalmente, e chiaramente, 2 kg non sono nulla, numericalmente, però lo sentite nell'esercizio, ragazzi ci vediamo l'esercizio, voi vedete solo una serie. Ok ragazzi, serie completata, 40 kg sono perfetti, si sentono il giusto, nemmeno tantissimo, però non si sentono il giusto per lavorare bene, perché quello che conta realmente è fare l'esercizio in modo giusto. Ragazzi, prossimo esercizio, ovviamente legge curl, faremo 4 serie per 10, 30 kg, aumenteremo anche qui da 27 a 30. l'esercizio in modo giusto, e poi volparci, però adesso congiungiamoci sulla legge curl. Ok ragazzi, legge curl completata, ovviamente avete visto solo una serie, perché non è l'esercizio sempre quello, non aumento di peso durante le serie, ragazzi adesso concentriamoci sui portaggi, guardiamo la cap machine di da seduti, sulla palca qui, con 2 kg di leggeri, ovviamente rende un poco peso, questo è il peso della kick, ragazzi, noi andiamo a giugno anche a fare pezzi della kick, non meno dall'inizio, ragazzi, guarda che ragione, metteremo 60 kg, l'ultima volta, l'avevo fatto 38 se mi sbaglio, proprio in genere, metteremo 60 kg, adesso vedremo come va, faremo 3 serie, e 12. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 18. 18. 18. Ragazzi, adesso addominali, faremo come primo esercizio sit-up, tre serie per 20 ripetizioni, poi ovviamente laterali e basse. Ok ragazzi, sit-up fatti, adesso ovviamente abbiamo bicicletta, tre serie per 12-15 per lato mortale, ovviamente ragazzi, ci vediamo all'esercizio. Ok ragazzi, anche i laterali completati, adesso ultimo esercizio, addominali bassi, ovviamente, il Reverse Crunch, tre serie per 15. Ciao! 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 Ciao!